Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, oggi parliamo sul canale di Shiba Inu, token famosissimo, come sempre lo abbiamo seguito molto spesso sul canale, quest'oggi c'è una notizia importante da condividere appunto con voi sul canale, me l'avete segnalata anche sempre qualcuno di voi che segue il canale, quindi come sempre per queste segnalazioni vi ringrazio, appunto andiamo a vedere quello che sta succedendo per quanto riguarda Shiba Inu. Come sempre ragazzi, prima di cominciare il video vi chiedo di iscrivervi al canale, se ancora non l'avete fatto, se vi piacciono il contenuto del canale, di lasciare anche un like al video per supportare il canale con l'algoritmo di YouTube. Come sempre ragazzi, ora direi sigla e poi cominciamo. Partirei subito con una veloce carrellata di quella che è la situazione del mondo delle criptovalute. Bitcoin è abbastanza flat, intorno ai 39.000 dollari, Ethereum 2.580 dollari, scendiamo Solana 81 dollari, sicuramente prezzo interessante. Per quanto riguarda Dogecoin 11 centesimi di dollaro, Shiba Inu invece è al quindicesimo posto dei token più capitalizzati, con una capitalizzazione di 12,2 miliardi di dollari. Ora ci andiamo a vedere anche graficamente qual è l'impostazione di Shiba Inu. Ci guardiamo l'ultimo anno e vediamo quello che è il momento di Shiba Inu. Una fase di così trend sicuramente direi ribassista. Ovviamente quello che sta succedendo nel mondo non agevola token come Shiba Inu, soprattutto perché le prospettive comunque di un'inflazione crescente spingono gli investitori a vendere gli asset più speculativi e Shiba Inu nell'orizzonte complessivo degli investimenti e all'interno del mondo delle criptovalute sicuramente è uno di quegli asset più speculativi. Quindi sicuramente per chi ha intenzione di sfruttare questo momento magari per comprare potrebbe essere una buona idea. Ovviamente ragazzi non sono consigli finanziari, fate sempre i vostri calcoli. Per quanto riguarda gli holders, gli holders ci dicono, c'è il trend, gli holders ci dicono che c'è un po' di rallentamento, meglio qualcuno comincia ad abbandonare Shiba Inu. Questo perché comunque la fase di mercato non sembra in questo momento vedere una veloce risoluzione. C'è chi preferisce magari vendere per andare a investire in altri ambiti e magari cercare profitti di breve periodo. Per quanto riguarda la notizia di oggi, per quanto riguarda Shiba Inu, è quella di un possibile ritorno di fiamma per un possibile listing di Shiba Inu su un nuovo exchange. Ed è una cosa di cui si era parlato diversi mesi fa, sembrava cosa fatta, ma riportiamo news su un possibile listing di Shiba Inu su Robinhood, un exchange molto famoso. Questo in realtà, questo link non è il blog ufficiale di Shiba Inu, però insomma in tanti me l'avete segnalata, ne stanno parlando in tanti, e sembrerebbe che Robinhood abbia un po' rotto gli indugi, le perplessità che avevano sul progetto e siano pronti con il listing. Sappiamo di Shiba Inu che è sempre sulla cresta del Londra dal punto di vista mediatico. Qualche giorno fa c'è stato dietro un annuncio d'accordo Shiba Inu con John Richmond, la famosa casa di moda. Sicuramente questo fa di Shiba Inu sempre un token di cui si parla molto. e ovviamente gli exchange hanno bisogno di essere sempre molto molto sulla bocca di tutti. Questo è questo tweet, ripeto non è l'account ufficiale di Shiba Inu, va chiarito ovviamente questo, però se così fosse sicuramente sappiamo che questi listing hanno sempre un effetto positivo sulle quotazioni di questi token, è anche vero però che in questo momento Shiba Inu è già disponibile su molti exchange e quindi in generale chi volesse effettivamente poi acquistare su Shiba Inu ha un'ampia possibilità di scelta e quindi in questo caso forse un eventuale listing di Robinhood potrebbe sì aumentare gli holders, però potrebbe magari non avere quell'effetto disruptive, cioè quel balzo in avanti che poteva avere magari una quotazione di un listing magari qualche mese fa, anche perché ripeto il trend di mercato è abbastanza incastrato dagli eventi appunto che stanno accadendo. Sicuramente ripeto quello che si può fare è sfruttare il momento per mettersi in tasca qualcosina a livello di Shiba Inu, lo farei sempre con molta attenzione e da tirare fuori poi quando ci saranno momenti migliori. Shiba Inu è, abbiamo visto anche in passato, qui da maggio fino di fatto a ottobre, fece una lunghissima fase di lateralizzazione prima poi di questa bull run che la portò fino a ottobre all'all time high appunto della sua storia. Ripeto, per quanto riguarda Shiba Inu andremo avanti a monitorare come si svilupperà questo discorso di Robinhood se effettivamente poi ci sarà quello che viene definito il closing, cioè il lancio di Shiba Inu su Robinhood e sicuramente anche dal punto di vista social eventualmente sarà molto spinto e vedremo se poi potrebbe veramente dare questo famoso rally che in questo momento Shiba Inu ha bisogno. Noi abbiamo visto anche infatti che anche gli holders in questo momento sono in una fase decrescente questo vuol dire che l'interesse per il progetto sembra un pochino più basso sappiamo che la capitalizzazione del mondo cripto sta risentendo ovviamente di quello che sta succedendo nel mondo e quindi anche Shiba Inu non esula da questa prospettiva appunto nella quale tutto il mondo delle criptovalute si trova in questo momento, lo vediamo anche dal trending di CoinMarketCap vediamo che nelle prime 15 insomma c'è poco verde e c'è molto rosso il verde che c'è sono piccole percentuali ovviamente ripeto andremo avanti a seguire perché poi la notizia eventualmente sarebbe anche riportata sicuramente sul blog ufficiale di Shiba Inu nel quale ci sono poi le notizie confermate che sono sempre poi importanti da seguire ragazzi ovviamente come sempre fatemi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate anche voi di questo possibile listing su Robinhood se ve lo aspettate o se pensate che verrà ancora rinviato e se pensate che possa avere poi un buon impatto sulla quotazione del token scrivetemelo qui sotto nei commenti così poi ne possiamo andare avanti a parlare nel canale appunto rispondendo ai commenti come sempre ragazzi se ancora non l'avete fatto vi chiedo di iscrivervi al canale cliccando anche sulla campanellina per le prossime notifiche dei video che faremo sul canale e vi chiedo anche un like al video per supportare il canale con l'algoritmo YouTube se il video ovviamente vi è piaciuto, vi è stato utile come sempre ragazzi direi grazie per aver visto il video fino adesso e come sempre ci riaggiorniamo poi nelle prossime giornate, nelle prossime settimane insomma sempre per quanto riguarda le notizie che riguardano poi token, chittovalute e finanza decentralizzata grazie ragazzi, a presto sul canale, un abbraccio, ciao grazie a tutti